Perché che tu ti metti a fare version blogger sui social mi dà fastidio Io non ho mai fatto la version blogger sui social Quindi metto poi in discussione il tuo interesse verso di me Guarda, quello che lui discute è questa immagine Ok, sì vabbè mi è stato chiesto, non sono stata pagata per sponsorizzare assolutamente nulla Ma quello non è questione di pagare, ma che te frega di fare una storia? Ma che ti frega di quello che metto sui social? Ma a me non mi devi fregare di niente, poi fa quello che ti pare, a me non mi devi mai fregare Ma che senti io? Mi può dare fastidio una cosa del genere? Ti metti davanti allo specchio a fare video Eh non posso farmi una foto, ma sono affari mie di quello che mi vesto Sono affari tuoi però posso fare No, tieni fuori delle cose assurde Federico, li hai sempre tirati fuori tra l'altro queste cose E non solo con me, cioè non c'entra niente con quello che io metto sui social No, qui te sbaglio, perché Alice non ha mai fatto una cosa del genere Perché io a Alice gli ho detto che mette le foto Che praticamente può essere una gelosia Può essere una gelosia perché se sta mezza nuda sulle foto Nel momento in cui tu fai la fashion blogger Mi dà fastidio, te lo posso dire? Sì? Eh allora, però vedi che non si capisce Allora torni pure al discorso che ti faccio in esterna No, no, fai bene a dirmelo Perché ti sollecito un problema e tu non mi capisci Fai come ti pare, non me posso fare foto, non posso fare quello, non posso fare quell'altro Ti ho detto un'altra cosa che però non percepisci evidentemente Ok, messo sempre in dubbio il mio interesse Ti ho detto un'altra cosa che ti faccio in esterna Ti ho detto un'altra cosa che ti faccio in esterna Ti ho detto un'altra cosa che ti faccio in esterna Ti ho detto un'altra cosa che ti faccio in esterna